Ebbene ragazzi, benvenuti in questo quattro dicesimo episodio da Fox e Kentrix Ciao Che si butta la roba sulla sua faccia Non dirlo in maniera epica, sennò dicono che copiamo a Marcus Marcus So on the face Ok l'ha detto, picchiatelo, picchiatelo a lui però Guarda in questa cesta Che dovrei vedere? Dove? Il mio bottino Ah si come ho fatto vedere la clip in questi giorni In questi giorni, in questa notte di Minecraft Kentrix si è fatto torpare i peggio cd Nella propria pandemia strani eh Intanzi li vendiamo se li volete li regaliamo pure Madonna, due uguali poi attenzione Eh appunto Allora questo qua 10 euro Questi due ne abbiamo due 5 euro l'uno E con la testa che ne so, 18 euro 18 Sì Facciamo offerta speciale tutto a 40 Esatto Tutto però comprende pure due doppi, quindi non si può dire E quindi mi mettono di portare qua o Sto face Senti dobbiamo decidere se fare tancas e fare forestry se fare gesù Gesù Facciamo una pixel Facciamo una pixel Non ho mai fatto pixel in tutta la mia vita se non incredibile E a me Quindi va bene Una cosa su cui non sono molto esperto quindi vero uno skip di video però va bene Vai facciamo Ma cosa vuoi fare sto scherzando che ti dice Allora Che dobbiamo fare Non lo so Bene Continuiamo la tancra Vai Vado appassare la roba Ci serve il Ice in blue Ice in blue? Allora prendete tutti quanti il vostro vocabolario che potete scaricare da Da un'altra parte perché non esiste E cercate cosa vuol dire quella cosa era dito che ci serve il bestio Il bestio La bestio Era una bestia Quindi Andre Andre ci serve Ci serve della lana e delle string E della lana poi anche della lana Ho detto già la lana Senti guardo sulla wiki che serve Senti guardo Non mi ricordo neanche come si chiama Aspetta come il comune cazzo Siamo Stamato il cirobs Sime 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 Ok qua sto macerando Qua la formazione Sime 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 Ma per fare cosa al soggetto Per fare il Blu Ok per fare le Allora quindi ci mettiamo lascia di verde Di verde La porta al gambe Aspetta Stai fermo Stai fermo La porta al gambe Questa cazzo io Questa Purus Porta al gambe Purus Serve il purus Serve il purus No ci serve Ma che cazzo No ho scoperto lo scoop Uffa Ho scoperto Un albero di legno Lo soppichiamo Ho scoperto Gli Ah non mi soppichiamo Senti allora Non perdere tempo Vedi voi dici che sono io che perdo tempo Poi si lamenta Ah Non mi lamenta perché tu non spieghi niente Allora che devo fare Dimmi Dammi una manzione Allora ho scoperto il time scoop Anche se non volevo Quindi mi opiniamo di farlo Che serve Bestiola Che oggetto serve La lana Che doveva attendere La lana La lana Mi pare Gli occhi di occhiali E che riguarda Vediamo solo sette Bastano Quanti riservano Sei Ok A me se vede La lana Di ragno A pelle dovrebbe averci La pelle figlia da gollo Non c'è questo Bene non ci bastano gli occhi di ragno Ok Bestiola di liberi C'è la c'è la c'è la c'è la c'è la Anche la stringa Ce l'ha Lui Chiamolo E' la storia La rosa No Aspetta di vedere Non è per non c'è Dai Da Vediamo Per Non me lo dici Cosa da Gore probstando ��운 신 Partito In Spar een Key Mo Mo Ho ه Io Ho 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 ma non è completo guarda l'unico il video e sono i piedi se c'è il figlio sono un paese c'è il sito il basso dove ci vuole l'istrumento il quale da metterci inizio che per un segno ok capo ok ma ci servono io ho troppe zappe zatte la pena pagare la tiglia del mondo non basta non è non basta perché ho chiamato io con il basso basta l'istrumento stasano le pavole le quali le prime quando questa è se ti facciamo l'ora di squadra io metto la paletta premia lì m ma fatta scopo questo la parirata un punto non so non scopriamo spiegaci un attimo pure nei comuni mortali, una volta tenuta la belga mela dobbiamo craftarlo da sopra e poi la sblocca nel libro da quel libro che lo faccio vedere per i nostri amici degli spettatori la botterone lavava allora questo libro, clicchiamo qua e quello ci dice qua no per esempio che ne so se voglio fare dunque ma un buon il traffino facciamo conte lo dicevo sta bruciando qualcosa ecco e diівacinice il il kraftine voici dove te e solamente a run qua bisogna leggere e adesso questo punto non l'anno scritto di macchina a entri stanzini bella che ieri che ieri giocigliano tini e qua abbiamo un non ne abbiamo si ne abbiamo 5 ora ne abbiamo 0 ora ne abbiamo un interd no il costo via o il pano un sito per l'obusco scurso cd pure un belito se finire il tuo punto o lì siamo attenti ora c'è stato che serve per fare dopo erano le armature per se ci rende morirà la notte a dormire non scopriamo assolutamente posto santo c'è un'altra torscia che ci serve assolutamente io non so quella cosa corso sd macco ossa misterio no 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 la legislazione è stata 15 se mi interessa le abiti hanno finito di andare on the fence no uff analizziamo questa abstronsa forest mitos quest'amico come sono mitos forest ok incrochiarmi veneci on the face because we are pro oh 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 no no in realtà davvero non so quella cosa che caccia sia quella che mi ha appena capitato eh no ma lo sento dare ma non si è un po' da fare questo calderone quella cosa nuova dico quella cosa c'è la dura di rosa rosa non è indovina cosa ehm e cos'è se non c'è il to il 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 o r un un ma se ti muti per questo vero posso provare a chi è un figlio oltre schieno la terapia la forma costa di tienda se mi ha raggiunto ma io provare a farmi troppare un zid un uomo di posto via mercolata tante tu guardi io no che basta di prenderlo anche colpisca 2 vincere la maniera di un'altra frecciata solo bene cazzo è stato il crepe e per chi ed eccoci qui si è appassionato in tempo non stai stelle tenevo della carne costa c'è giù la mia carne carne testo la carne perla seconda volta tutto un'novazione la terza volta se la carriera no perchè non avrò mai la carne il comune tomometer precantazio cognito in macchina serve la resta se lo abbiamo la resta come erano t non come prendere la roba con la porta g ne stiamo attività la l'ultimo xd 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 quindi carr mobs mi cosimi tc e scampi un attimo sta wikipediando test la scuola direi che cazzo era con l'altra cosa mi m non mi c'è il palmo pensiero che scoperti non è la parola del mondo del provera quando ci facciamo non mi mette che c'è a cacera il marco dice il campo stima se vuole l'ho il capore di mangiare stasso lento quanto e tanto lo stacco di più e non c'è niente enti i pezzi perchè non c'è in scuola di ammissi le cose cartiglione della comunità nel tavolo c'è un po cazzo io lo scrivo tutto la faccia un film lo schietro tutto la realtà si è riuscita ah ok testi cartifici dobbiamo gastare l'altra cosa è passato a livello successivo e quindi senti dato io che io so che ci vuole trapparope non me la scuola ci voglio arrivare ok no senti quindi non basta un uno stacchio 8 di coppone cazzo è da parte omo di questa tasto il gioco pronto un altro chiediamo a me di questo tasto di coppone ahahah la bella scuola mette una gesta della roba da posterare oltre oltre i eh 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 dodici crafting pneumatic snaft cartente non so quello bene ora 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 intanto è terreno che mi arrivano i messaggi cantex ci sei? e fox survived la vita al cantex attenzione c'è c'è salvato la vita c'è un ragno che stava picchiando e cazzo e se chi vado alla carta no 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 non volevo dire te lo butto buttato ahahah ma senza non muore attenzione non vuoi morire non mi piace questa no mi serve della terra non riesco di scegliere la carta con me as ecco 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 c'è un disco per chi perché quando c'è un list paramo